Oggi parleremo di giocattoli. Dopotutto ognuno di noi ha avuto un giocattolo preferito. Probabilmente, se fossi nato negli anni 60, uno di questi sarebbe stato il gioco che avresti desiderato avere. Osservando i bambini divertiti, si direbbe che si tratti di un giocattolo davvero favoloso, anche se scopriremo che nasconde un effetto collaterale. Per chiarezza, bisogna dire che molti giocattoli del passato erano davvero assurdi ed in alcuni casi addirittura pericolosi se paragonati agli standard odierni. E tra questi strani giochi ci rientra tranquillamente lo swing wing, che funzionava come una sorta di hula hop, con la differenza che bisognava utilizzare la testa e non era un cerchio rigido. Lo so, sembra assurdo, ma nel 1965 la Transogram ha pensato che fosse un'idea geniale vendere un casco con sopra attaccati dei nastri. Secondo loro, i bambini si sarebbero divertiti a far roteare la testa per srotolare questi nastri. E' strano a dirsi, ma avevano ragione, infatti il gioco divenne popolare, anche se va detto che in quegli anni non c'erano poi così tanti giochi tra cui scegliere. Ma ora, passiamo alla parte negativa, all'effetto collaterale per così dire. Infatti, il prolungato utilizzo di questo gioco causava nei bambini emorragia cerebrale. Insomma, questo gioco ha causato la morte di dozzine di persone, tanto che dovette intervenire l'FBI per porre fine alla produzione dello swing wing, impedendo così ulteriori tragedie. Leggenda vuole che sia ancora possibile trovarne qualcuno, magari nei mercatini dell'usato. Ma dammi retta, ti conviene starne alla larga. E cosa penseresti se ti dicessi che in passato sono stati venduti piccoli laboratori giocattolo per educare i bambini alle meraviglie dell'energia nucleare con tanto di campioni di uranio? Probabilmente penseresti che sia impossibile e che l'idea è semplicemente folle. Ed invece, è tutto vero. Nel 1950 venne creato e commercializzato il set da laboratorio per l'energia atomica Gilbert U-238. La sua invenzione si deve ad un ex atleta americano, mago, nonché produttore di giocattoli ed uomo d'affari. Praticamente una sorta di Tony Stark, di nome Alfred Clarton Gilbert. L'uomo voleva che i bambini osservassero le reazioni nucleari e chimiche. In questo modo, fin da piccoli, si sarebbero avvicinati alla scienza ed una volta grandi sarebbero divenuti importanti scienziati. Che dire, sicuramente è un nobile ideale, soprattutto se si considera che chi ha prodotto il gioco affermava che era totalmente sicuro. Però non ci vuole un genio per capire che l'uranio può causare gravi conseguenze alla salute come il cancro al fegato o alle ossa. Per non parlare del fatto che l'ingestione dell'uranio è ancora più pericolosa della semplice esposizione. Che dire, questo gioco era sicuro come può essere sicuro fa giocare dei bambini a guardie ladri con delle pistole vere. Nel 2006 la rivista Radar nominò il laboratorio Gilbert uno dei dieci giocattoli più pericolosi di tutti i tempi. Per fortuna il gioco non ha avuto il tempo di diventare popolare, anche a causa del suo costo davvero troppo elevato. E anche se sono sicuro che oggi qualcuno magari sarebbe interessato a comprarlo, fortunatamente non è possibile trovarlo in commercio. Mentre un giocattolo, che paradossalmente è ancora in commercio, consiste nelle freccette da prato, che sono legali in alcuni paesi. Per intenderci sto parlando di freccette lunghe circa 30 centimetri, con le quali si deve cercare di centrare un bersaglio a forma di anello posto sul terreno. Insomma, un gioco davvero semplice. Innocuo. Se non fosse che le freccette hanno punte d'acciaio. E già nel 1970 vennero riconosciute come pericolose. Ci volle però un lungo processo giudiziario per bandirle completamente. Questo perché in diversi casi, alcuni di questi darti con la loro punta in metallo, trafissero il cranio dei bambini o anche adulti, causando gravi danni cerebrali e portando di conseguenza al coma e alla morte. Quindi, dopo che le freccette causarono migliaia di feriti e ucciso almeno tre bambini, i giochi vennero banditi dalla vendita negli Stati Uniti e in Canada. Ma possono essere ancora comprati in Cina! E bisogna dire che questo è strano. Insomma, una cosa sono quei giocattoli che si scopre essere dannosi solo in seguito. Ma queste freccette di 30 centimetri si sa che possono essere mortali fin da subito. Tu non credi? E cosa dire dei giocattoli che vengono usati ancora oggi? Sì, insomma, peluscio bambole di vario tipo che si potevano comprare nei mercatini a prezzi economici e che erano più pericolosi per l'ambiente che per i bambini. Secondo una ricerca del 2018, infatti, i giocattoli prodotti negli anni 70 ed 80 contengono elementi pericolosissimi e alcuni di essi sono tossici anche se presenti in piccole quantità. Infatti basterebbe che un bambino si metta in bocca a un vecchio giocattolo per avere delle conseguenze anche abbastanza gravi. Questo perché in passato i giochi non subivano il gran numero di controlli che avvengono oggi e quindi si potevano utilizzare anche plastiche o coloranti che oggi sono vietati. Anche i vecchi Lego non fanno eccezione. L'umanità, infatti, ha impiegato molto tempo per rendersi conto che doveva fare qualcosa al riguardo e le cose sono cambiate attorno all'anno 2000 e questo può farti capire quanti rischi i bambini del passato hanno corso semplicemente giocando con bambole e mattoncini per costruzioni. Oggi tutti i giocattoli destinati ai bambini di età pari o inferiori ai 12 anni devono essere necessariamente testati da esperti e certificati. Questo è riuscito a fermare la creazione di giocattoli pericolosi, ti chiedi? Beh, in linea generale sì. Ma c'è da dire che alcune persone hanno comunque trovato il modo di trasformare giocattoli innocui in giochi potenzialmente dannosi. Ed ora ti mostrerò alcuni esempi che potranno aiutarti a capire. Conoscerai sicuramente il coccodentista che consiste in un grosso coccodrillo di plastica dotato di una testa mobile all'interno della quale presentava numerosi denti da strappare. In maniera casuale, poteva capitare che il coccodrillo chiudesse la bocca mordendo il dito del bambino che veniva così eliminato. Ovviamente il morso era totalmente innocuo e non provocava alcun danno. Ed ecco perché alcuni geniacci hanno aggiunto ai denti delle lame affilate trasformando questo gioco da innocuo ad estremamente pericoloso. E onestamente non saprei spiegarmi il perché. Dopotutto, la mente di alcuni esseri umani è davvero strana. Sì perché non devi avere tutte le rotelle a posto se decidi di convertire una pistola d'acqua in qualcosa di potenzialmente letale come un pericoloso lanciafiamme. In fondo, cosa potrebbe andar storto? In effetti stiamo parlando di una semplice pistola di plastica che potrebbe letteralmente fondersi sulle mani dell'idiota che l'utilizza nel caso di un ritorno di fiamma. C'è da dire che questi due esempi sono relativi a giocattoli innocui comunemente commercializzati e che diventano dannosi solo a causa delle modifiche apportate da gente poco sveglia. Tutt'altra cosa sono i fidget spinner dotati di lame che sono tranquillamente acquistabili su ebay. Ricorderai, 4-5 anni fa, questi giocattoli andavano davvero di moda quasi tutti ne avevano uno ce n'erano di ogni forma e colore, persino personalizzabili e come già detto, alcune versioni di questo giocattolo includevano delle lame. Credo sia superfluo dire che hanno provocato numerosi tagli alle mani e ferito anche gli occhi di chi li ha utilizzati ma non ci voleva certo uno scienziato per capirne la pericolosità. La buona notizia è che questi fidget spinner sono stati tolti immediatamente dalla piattaforma mentre la cattiva sta nel fatto che gli adulti continuano deliberatamente ad usare giocattoli per bambini con scopi sbagliati. E forse ricorderai di quel giocattolo della Mattel, l'MME. Si trattava di un piccolo dispositivo di messaggistica essenzialmente un giocattolo per bambini dotato di antenne economiche e un hardware open source che non si produce ormai da tempo anche se però si è scoperto che può essere utilizzato per aprire le porte dei garage. Ovviamente non quelle porte che sono state chiuse con un catenaccio ma bensì quelli elettrici che hanno serrature o combinazioni che si possono aprire con il telecomando. Non preoccuparti però perché chi ha fatto questa scoperta ha anche aiutato a risolvere questo problema di sicurezza. E che dire dei giocattoli che salvano la vita? Può sembrare strano ma le comuni stelle filanti che si utilizzano a carnevale e sembrano servire solo a dar fastidio si sono in realtà rivelate molto utili come strumento per trovare quei sottili cavi che vengono utilizzati per innescare le bombe. Dopotutto le stelle filanti sono leggere e appiccicose e possono essere spruzzate in ogni direzione arrivando fino ad una distanza di 10 metri. Quindi se la sostanza viene spruzzata e cade a terra la strada è sicura mentre se rimane sospesa in aria vuol dire che c'è un pericolo. Probabilmente si tratta di un tripwires ovvero un sistema di innesco passivo quasi impossibile da notare ad occhio nudo. Non so perché ma l'idea dei militari di utilizzare delle stelle filanti come strumento salvavita mi diverte. Ma tornando a parlare di giocattoli pericolosi non possiamo dimenticare di citare i set da costruzione magnetici per bambini che però, proprio come Lego, piacciono molto pure agli adulti anche se gli adulti difficilmente proveranno ad ingoiare un magnete cosa che apparentemente molti bambini hanno fatto. E proprio a causa di questo nei primi anni del 2000 sono stati ritirati dal commercio diversi milioni di set magnetici dopo 27 gravi lesioni intestinali che addirittura ha la morte di un bambino. Questo perché i magneti sono difficili da espellere per il corpo umano tanto che i medici hanno dovuto eseguire almeno 1500 interventi chirurgici per rimuovere i magneti e non tutti i bambini erano piccoli alcuni avevano anche più di 10 anni E chi di voi si ricorda la fabbrica dei mostri? Sì! La fabbrica dei mostri! Sajik! Il gioco consisteva in alcuni stampi nei quali versare una sostanza chimica ed in seguito questo stampo veniva inserito all'interno di un piccolo forno elettrico che poteva raggiungere la temperatura di 180 gradi insomma un giochino potenzialmente pericoloso che sviluppava un odore per nulla gradevole C'erano tantissimi stampi differenti con i quali creare insetti e mostri multicolore Il gioco divenne molto popolare e fu bandito solo quando le persone si resero conto che riscaldare uno strano liquido chimico a 180 gradi ed inalare i vapori non era davvero buono per la salute Possiamo considerarla come la prima stampa 3D domestica degli anni 60 Un altro gioco particolare che venne creato negli anni 40 consisteva in una pistola che sparava palline da ping pong con una tale forza che in alcuni stati americani veniva considerato una vera e propria arma da fuoco La pallina veniva sparata fuori dalla pistola grazie ad una reazione chimica che avveniva tra il carburo di calcio e l'acqua Il risultato di questa reazione produce però numerose scintille che possono facilmente bruciare la mano del bambino Come se non bastasse Bisogna aggiungere che queste strane pistole spesso esplodevano e quindi è solo questione di fortuna se nessuno è mai morto mentre giocava con queste armi Ed ora voglio parlarti delle amache Lo so, non sono un giocattolo ma io le ho sempre considerate innocue proprio come giocattoli finché non mi sono imbattuto in queste mini amache commercializzate in America attorno agli anni 80 e che hanno causato la morte di ben 17 bambini Le amache in rete di nylon leggero costavano solo 3 dollari e 99 l'una ed i bambini correvano il rischio di rimanerci intrappolati e di conseguenza soffocare I bambini morti soffocati nelle loro amache avevano tra i 5 e i 17 anni Davvero spaventoso Sono sicuro che Stephen King potrebbe scriverci un libro su queste maledette amache letali Esiste poi un giocattolo che viene creato prendendo ispirazione da un vecchio film del quale conoscerai magari il remake del 1997 Fluber con Robin Williams Avrei capito che sto parlando dello slime ma non di quello moderno bensì del primo esemplare di slime apparso per la prima volta nel 1963 e dalla sua commercializzazione si susseguirono almeno 1600 segnalazioni che riguardavano eruzioni cutanee e mal di gola tutte legate a quel prodotto o a prodotti a lui simili che causarono ovviamente il ritiro del fluber dal commercio A quel punto però ci si trova dinanzi ad un altro problema ovvero tonnellate di materiale tossico e appiccicoso di colore verde difficile da smaltire Il giocattolo non poteva essere bruciato perché produceva un fumo nero altamente tossico Leggenda vuole che sia stato interrato da qualche parte e sopra di esso sia stato costruito un parcheggio Ebbene amico, questi erano alcuni dei giocattoli più pericolosi mai messi in circolazione Tu ne conoscevi qualcuno o addirittura ne possedevi qualcuno? Fammelo sapere con un commento Io per ora ti saluto ma noi ci rivediamo domani con un altro video Ciao